Conclusione dopo 4 anni di vita in macchina. 1. Fondo pensione. Serie in 6 lingue. Le categorie di questa serie di video in 40 parti in 6 lingue sono semplicemente in ordine alfabetico, in tedesco. Ci sarà un articolo sul blog in ogni lingua e un ebook alla fine. Tutti i link nella descrizione. Piano pensionistico. Prima di trasferirmi in macchina nel 2018 non mi ero posta il problema di provvedere alla mia pensione. Tuttavia sapevo che avrei dovuto mettere da parte i soldi per la pensione privatamente, non appena ne avessi avuti abbastanza. Ho perso i miei clienti più importanti a causa della pandemia e ho dovuto ristrutturare la mia attività. Ora insegno online. Tuttavia attraverso l'insegnamento non guadagno tanto quanto guadagnavo prima negli hotel. Ma da quest'anno sono finalmente riuscita a mettere da parte dei soldi per la pensione. Non guadagno di più. Ho soltanto risparmiato di più. Altri video sulla vita in macchina sono presenti su Viaggi in macchina. Grazie per la visione, il mi piace e l'iscrizione. Fino alla prossima settimana. Maggiori informazioni sul blog, link nella descrizione.